Poi mi dovete dire quanto cazzo è strano il calcio Cioè questi con due partite contro il Milan 17 punti Gliene hanno presi 4 Dei 17 punti totale Non l'ho salutato Ciao Do sto? Non sto a far puttantur E anzi se sentite qualche risata strana Ok non sono nata No è la ragazza mia Che sta qua a fianco E ride Che cazzo te ride Ride Vabbè Siamo tornati con questo nuovo video Appunto perché tra una passeggiata e l'altra Ho detto io stasera esco Perché tanto il Milan che poi fa Vince col Benevento Anche perché gioca in casa a San Siro E io me so giocato l'uno Vaffanculo Vaffanculo alle schede Ne gioco più Mi sono rotti i coglioni Mancano 4 giornate Basta Vi do i consigli Sono 3 settimane che dico la stessa cosa Ma detto questo Benevento che fa la sua partita ragazzi Sì Non c'aveva più un cazzo da perdere Ne da vince Perché sta partita conta ben poco per loro I tre punti Non credo che li salveranno Anche perché ormai la matematica Li ha praticamente sotterrati Ma va a togliere punti importanti al Milan Che guarda caso Resta a 54 L'Atalanta che sotto è a 52 E qualora domani dovesse vince col Torino Questo è un volante Non è una cosa a zozza Non pensate a male Vedete Qualora dovesse vincere l'Atalanta Appunto Andrebbe a 55 E scavalcherebbe Il Milan di un punto Il che significherebbe Sesto posto E ipotetica qualificazione in Europa League Poi ovvio che ovviamente Non è che domani finisce il campionato Ci sono altre giornate Però il Milan contro l'ultima In classifica Va a perdere Una situazione Insomma una cosa Punti importanti In ottica In ottica Europa League Che partito avete visto? Avete visto? Avete visto? Me ne frega un cazzo Vabbè Comunque L'altra volta è stato Brignoli A sto giro è stato Iemmello Che ha buttato la palla in rete Ripeto Alla fine ha fatto L'unico tiro nello specchio Il Benevento ha buttato la palla In rete E so due volte Quello dico forse 5 o 6 E invece il Milan Che c'è prova Una volta con Bonucci Una volta con Cudrone Una volta con Chessi La Traversa Cristo La Madonna Non è servita a niente Il calcio è strano Beppe Questo è quanto Però voglio sapere da voi Che cosa ne pensate? Il Milan si qualificherà Alla fine per l'Europa League Perché pure la Fiorentina Oggi il corso è per l'Europa League Zacca E ha perso il corso a suolo Tutte le squadre Che stanno più in avanti Ultimamente stanno a perdere Con le squadre Che stanno più sotto E la cosa che mi preoccupa Mentre passano due Con cane a fallo cacà E manco levano poi La merda per terra E questa ride È vero Guarda sta a cacare cane E non levano la merda per terra Che schifo Vedo denuncio Vedo denuncio La merda si toglie Con le mani Con i guanti Fate come fai Mi piace Commentate Condividete Iscrivete al canale Stradamente a Roma Ha giocato caspalle Oggi ha vinto Non so che è successo Perché di solito Ste partita a Roma Mi ha certe imbarcate Perde 0-0 Perde 1-0 Ancora che ride Mi stai a sconcentrare Mannaggia quel porco Va bene Ragazzi Alla prossima con un nuovo video Cioè domani Post partita a Ciavattella Perché ce ne stanno In tutti i colori Ma soprattutto a Juve Juve-Napoli Bella Buonanotte